eccolo qua, eccone un altro, vedi? un bel sacchettone grande, così nel buco non ci va e ci abbiamo i soliti cretini che non capiscono che devono fare guarda, non ci vuole un genio, buco piccolo, sacchetto piccolo quando lo appoggi, così, ci entra e non resta fuori ci voleva tanto? invece no, arrivano con dei sacchi enormi e non entra bravi